C'è un voto ambisterio del lavoro in atto sulla questione BROS. Sappiamo che il Governo centrale è disponibile di convertire i finanziamenti che stanno bloccati dalla Regione Campania, però noi sappiamo che il Comune di Napoli già da un anno e mezzo ha messo sul tavolo dei progetti per la raccolta dei rifiuti speciali. 40-50 disoccupati BROS hanno forzato il portone del Comune, sono saliti e si sono barricati dentro perché loro vogliono urgente questa data del tavolo interistituzionale e se non abbiamo il tavolo interistituzionale la data loro non lasciano la stanza. Però le forze dell'ordine hanno autoordine dai magistris per liberare la stanza, un gruppo di disoccupati sono stati presi di peso con delle forzature, anche facendo male a qualche compagna e stanno fermi in questura. Ci rendono in uscita i mezzi. Ci rendono in uscita i mezzi.